Risse, rapine, furti, atti di vandalismo e finanche inseguimenti di ladri in centro storico con sparatoria. La crescita del fenomeno è generalizzata in città. I numeri non mentono, anche se possono cozzare con il senso comune. Modica si scopre vulnerabile, non più quella che per anni rappresentava il fiore all'occhiello della vivibilità. Dopo la sparatoria di ieri, culminata con i cinque arresti, in nottata altri furti. Uno al polo commerciale, 5.000 euro il bottino, l'altro all'ex mattatoio. I fenomeni di microcriminalità si sommano giorno dopo giorno. Tanti appelli della politica, alla politica stessa, affinché intervenca. Comitati, riunioni e annunci, ma la domanda che la cittadinanza pone all'amministrazione abate è solo una. Perché non si attiva la telesorveglianza? Lo si faccia al più presto, rinunciando magari a qualche spettacolo.